Finalmente sono riuscito a realizzare quello che è sempre stata la mia speranza e non voglio esagerare il mio scopo, riprendere l'isola di Abba. La vediamo nel fondo. Il primo pomeriggio c'è molta coschia. La pappa è appena sufficiente. Comunque quella è l'isola di Abba. La pappa è risposta immediatamente e manda a vedere l'isola di Abba, più vicina, 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 più vicina. Eccoci qua. C'è anche l'isola della Gorgona che possiamo riprendere. Non c'è confusione, non c'è un animo vivo, non c'è soltanto un leggero rumore, una leggera, eccoci, un'onda che va e viene, un'onda di quanticolare. Con questo saluto. Arrivederci.